buongiorno mi chiamo guido bartorelli e insegno storia del film e video d'artista è un insegnamento che va a intagare dal punto di vista di uno storico dell'arte quale sono io con quali motivazioni con quali ragionamenti gli artisti che fino allora si erano espressi in immagini ferme statiche la pittura o la scultura abbiano sentito la necessità di trasferire la nuova la loro ricerca formale su un supporto che permetteva il movimento l'immagine diventa immagine in movimento il corso indagherà proprio innanzitutto le origini di questo grande sconfinamento che coincide con l'arte contemporanea nel senso che è una si crea una delle grandi vie che segnano l'arte dal novecento in poi e siamo in baggeranno proprio le origini appunto perché con quale tipo di pratiche si fa questo per risalire poi a varie a varie cose che succedono innanzitutto il film come supporto poi ci sarà nel corso degli anni sessanta il video come supporto poi ancora il digitale che tipo di arte verrà espressa in questi mezzi che cosa comunica a formati più tradizionali o a formati invece altrettanto innovativi che si verifica non è sempre nelle arti visive come la performance installazione l'ambiente questo sarà l'oggetto di questo corso un corso quindi quanto mai aperto all'interdisciplinarità pensata proprio l'immagine in movimento film video d'artista potrebbe essere oggetto di un corso di storia dello spettacolo e arti performative ma anche di storia del cinema storia delle televisioni il punto di vista dell'arte credo è molto interessante proprio per arrivare a capire il passaggio dall'immagine statica all'immagine in movimento grazie